Mimmo Sabatelli una gara quasi perfetta per quanto riguarda il punteggio solo nel terzo quarto avete un poco faticato però siete riusciti anche a risalire la china e superare poi alla fine il Valdarno tra le big di questo campionato Io stasera credo di poter dire che queste ragazze hanno dimostrato veramente che innanzitutto che grande cuore hanno io giovedì dopo quella vittoria parlando con loro avevo visto facce diverse perché era una scuola che aveva bisogno solo di qualche certezza e di sbloccarsi psicologicamente perché io ho sempre detto che queste ragazze lavorano veramente in una maniera incredibile Io non posso che essere orgoglioso avrei detto credimi le stesse parole anche in caso di sconfitta perché oggi incontrovamo uno squadrone e abbiamo fatto una partita una partita attentissima dove abbiamo rispettato quello che abbiamo preparato in pochissimo tempo perché noi abbiamo giocato giovedì abbiamo fatto un po abbiamo preparato la partita il venerdì pronte per oggi quindi eravamo anche meno riposate però veramente oggi è stata una partita fantastica Io direi che veramente queste ragazze cominciano a prendere delle soddisfazioni che meritano perché veramente dalla mattina alla sera per tutta la settimana solo noi sappiamo i sacrifici e il tanto lavoro che facciamo e questo mi rendo orgoglioso Ogni giocatrice sotto il punto di vista tecnico non si discute dopo 11 gare oggi possiamo dire che giocate di squadra Ma sì io l'ho sempre detto questa è una squadra che aveva bisogno di tempo io l'ho detto e oggi ne abbiamo avuto una dimostrazione ho detto che a dicembre probabilmente avremmo cominciato a vedere il vero valore di questa squadra Dobbiamo ancora lavorare tanto oggi sicuramente un tassello in più per quello che il nostro progetto che la società ha detto dall'inizio una squadra completamente nuova una società completamente nuova abbiamo bisogno di tempo di altro tempo però sicuramente i frutti cominciano a vedersi oggi nella dimostrazione Ripeto una partita dove tutte le ragazze hanno giocato insieme che per me è la cosa più importante Poi è normale che in una partita può segnare più una più l'altra ma a me quello che interessa è la squadra e oggi si è vista tutta sia in attacco che in difesa Risponde tanto e bene anche il pubblico di Campobasso Veramente io sono questa vittoria la dedico alle ragazze in primis alla società e a questo fantastico pubblico Veramente io posso dire che abbiamo risvegliato quello che era una passione, una voglia, un amore per questo sport Vedere il palazzetto sempre pieno ci inorgoglisce, ci dà delle responsabilità Oggi sono contento e dedico questa vittoria, ripeto, alle ragazze, al pubblico, alla società E forse anche un pochino a noi staffo tecnico che posso garantire lavoriamo, studiamo e viviamo anche momenti di tanta tensione Però poi sono ripagate da queste grandi soddisfazioni Grazie a tutti